Si svegli, Mr. Freeman, si svegli. Ciao a tutti, io sono Alessandro e oggi parliamo di doppiaggio. L'uomo giusto nel posto sbagliato può fare una grande differenza. Parliamo di doppiaggio perché ormai è una realtà facente parte di quella videoludica e di quella di ognuno di noi. È difficile, infatti, trovare ancora giochi di grandi, case videoludiche, in cui non sia possibile settare nelle impostazioni la lingua italiana. D'altronde, però, è anche vero che il web, parlando di doppiaggio, si spacca in due. Da una parte c'è chi preferisce giocare un gioco in italiano, anche a costo di sorbirsi un pessimo doppiaggio, mentre dall'altra, chi invece preferisce, a prescindere, giocare un gioco in lingua originale. Ma chi è che in realtà ha ragione? Beh, in questo, come molti altri casi, non ha molto senso parlare di ragione. Bisognerebbe invece parlare di quali aspetti si ritengono personalmente più importanti. È vero, difatti, che entrambe le linee di pensiero hanno dei punti a proprio favore. Tralasciando una scelta dettata esclusivamente da non conoscere la lingua originale del gioco, è doveroso, infatti, far presente dell'elevata qualità generale, non solo nel mondo videoludico, dei doppiaggi italiano, anche a livello internazionale. Possiamo fare alcuni classici esempi di titoli doppiati magistralmente, e la cui reinterpretazione spesso non lascia nulla da invidiare a quella originale. È il caso dei vari Bioshock, della saga di Batman, dei Assassin's Creed, o anche della saga di Mass Effect. Sei pronto a rinascere? Prendi la mia mano. No, no, non voglio. Ma l'hai già fatto. Non è vero. D'altro canto, però, è anche vero che spesso i doppiatori italiani sono costretti a lavorare senza un contesto, non essendo dunque in condizione di esprimere al meglio se stessi, al contrario dei doppiatori in lingua originale, che sono seguiti direttamente dai team esecutivi del gioco, e che sono perciò in grado, interiorizzando maggiormente la situazione, di dare interpretazioni migliori. Poi, non dimentichiamoci, anche se effettivamente forse sarebbe meglio, dei disastri causati in alcuni videogiochi dal doppiaggio italiano. Felice di conoscerti, Snake. È un onore parlare con una leggenda vivente come te. È il caso di Mirror's Edge, con la voce di Asia Argento. Hanno scelto una vita tranquilla. Altri invece no. Coloro che si sono rifiutati di adeguarsi sono... O di Death Space, tanto per restare in famiglia. O anche di quel maledetto Spiro o Spyro, che dir si voglia, quattro o tanti, tanti altri. Personalmente credo che effettivamente in alcuni titoli, più che in altri, si senta una certa differenza proprio a livello artistico per quanto riguarda il doppiaggio. Per quanto mi riguarda, questo è il caso di The Last of Us. Ora, non fraintendetemi, Joel e Ellie sono doppiati benissimo dai loro doppiatori italiani. Tuttavia, credo che il doppiaggio originale abbia quel qualcosa in più che riesce letteralmente a commuovere. Un esempio di ciò accade secondo me in questa scena. Ellie? You are treading on some mighty then eyes here. I'm sorry about your daughter, Joel, but I have lost people too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone... fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else because the truth is I would just be more scared. In ogni caso, il video finisce qui. Sono davvero molto curioso di sapere cosa pensate a riguardo della faccenda del doppiaggio. Quindi, se potete, lasciate un commento qua sotto in cui scrivete cosa preferite fare e perché. In fondo il senso di questa nuova serie e dei brevitati che cercherò di portare avanti se Dio vuole è proprio questo, ovvero quello di lasciarvi degli spunti su cui ragionare e cercare di creare delle discussioni interessanti senza andare nel video stesso a snocciolare gli argomenti trattati. Spero che il video vi sia piaciuto e ricordate, in videogiochi, Veritas.